Il periodo storico della Belle Epoque, caratterizzato da un progresso tecnologico ed economico straordinario, ci ha regalato un numero considerevole di innovazioni che rivoluzionarono il mondo ed una serie di enigmi e misteri su cui ancora oggi ci interroghiamo. Questi influenzarono enormemente le società europee principalmente, sia sul campo civile che su quello militare. In quest'ultima area, un piccolo progetto, rimasto allo stato di prototipo e finito presto nel dimenticatoio, è testimone di questa epoca fatta sì di enormi passi avanti, ma anche di enormi contraddizioni, sintomo di un progresso tecnologico troppo rapido in confronto alle tattiche e alle dottrine militari dell'epoca. L'evoluzione repentina che ebbero nell'ultima metà dell'Ottocento le armi da fuoco e le artiglierie portò anche ad una sperimentazione di impiego delle stesse, cercando di allontanarsi dalle tattiche di stampo napoleonico. Per quanto riguarda l'artiglieria, nonostante i grossi progressi che si registrarono in quegli anni, rimase comunque un'arma alquanto difficile da spostare e da impiegare in tempi brevi, essendo lente e pesante. Nonostante questo, si riuscì ad incrementare notevolmente la gittata, la precisione e la rapidità di fuoco. Nel tentativo di ovviare le problematiche predette, il contraammiraglio Augusto Albini idea un mezzo assai singolare dalle caratteristiche innovative, ma era decisamente molto più avanti del suo tempo. L'ufficiale di Marina, già nota di più per le numerose innovazioni sia sul campo delle armi leggere che su quello delle artiglierie, pensò bene di risolvere i problemi precedentemente descritti montando un canone di piccolo calibro sul telaio di una delle primissime automobili messe in commercio. In pratica, il Conte Albini realizzò il primo autocannone della storia. Al giorno d'oggi di esso rimane solamente una foto sbiadita ed una curiosa descrizione dello stesso fatto da alcuni periodici dell'epoca. Prima di analizzare nel dettaglio il mezzo, andiamo a parlare della vita di Augusto Albini, il progettista. Nacque a Genova il 30 luglio 1830 dall'amiraio Giuseppe. Come i suoi fratelli, anche lui seguì la carriera del padre, arruolandosi con la reggia Marina Sarda. La carriera del giovane ufficiale fu davvero avventurosa. Si guadagnò la sua prima medaglia d'argento a largo delle coste del Mon Zambico, soccorrendo alcuni naufraghi. Partecipò con la reggia Marina Sarda alla campagna di Crimea e alla seconda guerra di indipendenza. Durante l'assedio di Ancona guadagnò la sua seconda medaglia d'argento al volor militare. Dopodiché partecipò anche all'assedio di Caeta, in cui guadagnò la sua terza medaglia d'argento al volor militare. Successivamente fu assegnato all'ambasciata italiana a Londra, comandetto Navale, e qui rimase fino al 1872. Il 4 ottobre 1873, Albini, con il grado di Capitano di Vascello, fu nominato direttore dell'artiglieria e torpedini presso il Ministero della Marina, in carico che poi lascerà dieci anni più tardi con il grado di Contramiraio, per assumere la presidenza della Società Ansaldo Armstrong. La vita dell'Albini merita sicuramente un video più dettagliato che arriverà nei prossimi mesi. L'Albini però non si distinse solamente sul campo, ma anche, come abbiamo detto, nella progettazione di armi leggere e di artiglierie. Nel campo delle armi leggere, egli riuscì a convertire le obsolete carabine d'Enfield in armi a retrocarica. Nel campo delle artiglierie navali, invece, egli inventò uno dei primi sistemi per assorbire il rinculo dei pezzi d'artiglieria. Il carrello da lui ideato fu presto montato nella corvetta Vettor Pisani. Nel 1897, egli ideò e realizzò uno dei primi autocanoni della storia. Ed ora è arrivato il momento di parlare più nel dettaglio del mezzo. Come si nota dall'unica immagine del mezzo, come un moderno autocannone, l'unione dell'affusto al telaio, più nello specifico all'avantreno, garantisce, in linea teorica, una certa stabilità al pezzo, sia in fase di tiro che di puntamento. Il tiro risulta pratico solamente a mezzo fermo, considerando la rudimentalità del mezzo, nonostante gli scrittori dell'epoca affermassero che il tiro movimento potesse essere una valida opzione. Il cannone, di cui è ignoto il calibro, è totalmente brandeggiabile mediante un perno centrale che permette la rotazione del pezzo sul campo orizzontale. Questa caratteristica però è decisamente più utile da fermo, dato che nel caso in cui il pezzo debba essere utilizzato in movimento, il brandeggio dell'arma si ridurrebbe, a mio avviso, ad un arco di circa 30 gradi. Ciò gli permette comunque di poter sparare sia in fase offensiva che ritirata. Il pezzo era protetto da eventuali schegge e dal fuoco di fucileria da uno scudo montato sull'affusto. L'equipaggio, formato teoricamente da 3 o 4 uomini, di cui 2 dedicati al pezzo, è decisamente inferiore di numero rispetto a quanti ne fossero necessari per un normale cannone da campagna. L'autocannone però può trasportare solamente una piccola quantità di munizioni, perciò è necessario l'ausilio di un altro mezzo per il rifornimento delle stesse. Anche la mobilità in terreni accidentati lascia qualche perplessità, ma questa problematica la si vuole scontrare in ogni mezzo dell'epoca. Infatti, per la maggior parte degli spostamenti, venne previsto il treno animale, mentre il motore era da considerarsi utilizzabile solamente sul campo di battaglia. Di certo, i tempi teorici di impiego sono decisamente inferiori rispetto a qualsiasi pezzo di campagna in dotazione sia all'esercito italiano che a qualsiasi esercito europeo, grazie alla mobilità e alla stabilità data dall'automobile. L'autocannone del Conte Albini finì presto nel dimenticatoio, ma rimane un importante precursore dei moderni autocannoni, con cui condivide la maggior parte delle caratteristiche. E con questo video, il primo del 2023, vi ricordo di rimanere sintonizzati sul canale. Quest'anno approfondiremo ancora di più nel dettaglio la spedizione Miani, parleremo anche della guerra italo-turca, ed approfondiremo la vita di molti ufficiali e soldati delle forze armate italiane. Vi ricordo, se volete supportare il canale, potreste donare qui sotto nel link in descrizione, soprattutto per contenere i costi della gestione del blog e per aiutarmi nelle mie ricerche. Arrivederci e a presto!